Sono con noi questa sera il Presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi. Buonasera, onorevole, bentornato. Buonasera. Saldini a Washington dice che non si accontenta delle briciole, si farà la flat tax e l'Europa se ne farà una ragione. È una settimana cruciale per il negoziato con l'Europa. Il Governo deve mandare la lettera nel giro di una settimana per spiegare perché andrà avanti sulle sue politiche economiche considerate dispendiose da Bruxelles. Come avete sentito il debito delle amministrazioni pubbliche ad aprile tocca un nuovo record e appunto c'è il tema flat tax. A ciascuno la sua tassa piatta, Presidente Borghi, c'è quella per le partite IVA 15% fino ai 65 mila euro, c'è la flat tax per le imprese che è l'IRES al 24%. Ce l'avranno anche i pensionati la flat, perché c'è un emendamento presentato dalla Lega che porta a 9 anni la flat tax alla portoghese, 7%, per i pensionati che dall'estero si trasferiscono a ripopolare il sud Italia. A noi poveri lavoratori dipendenti non ci pensa mai nessuno, Borghi. Lo spirito della flat tax è proprio essere mirato ai lavoratori dipendenti, vale a dire, se io faccio una seria riduzione dell'aliquota accompagnata da una forte semplificazione, che è il sistema tipico della flat tax, alla fine quelli che avranno un vantaggio maggiore sono quelli che fanno una dichiarazione medio-alta. Di solito chi fa una dichiarazione medio-alta, attenzione, qui non stiamo parlando di ricco o povero, stiamo parlando di dichiarazione dei redditi medio-alta e di solito questo identikit risponde pienamente alla categoria del lavoratore dipendente, perché i dati sulle dichiarazioni IRPEF questo segnalano, sono quelli che hanno un vantaggio più alto. E questo non significa che non si dà ai poveri, ma per un semplice motivo, che non è lo strumento giusto la detassazione per un povero, perché il povero ha bisogno di un sussidio, ma già adesso ha una tassazione molto bassa perché non dichiara se è povero. Per cui io penso che in realtà i lavoratori dipendenti dalla prossima finanziaria avranno una bella sorpresa. Medio-alta è 55 mila euro? Una roba del genere? Fino a. Fino a 55 mila euro? Classe media, sì sì, quindi dai 25 ai 50, te dai 20 ai 50. Con un 15% di aliquota? L'aliquota, ripeto, la vedremo, l'intento è 15, l'importante è, dal mio punto di vista, come ho detto tante volte, è avere il budget. Una volta che io ho il budget di detassazione, supponiamo 10 miliardi, a quel punto si compone le altre variabili, che sono l'aliquota, la deduzione fissa e le cosiddette tax expenditure, vale a dire quelle che sono le attuali detrazioni che vengono assorbite dal nuovo sistema. Importante che i conti tornino però, perché ho letto un interessante studio di Ernst & Young, che è una delle principali società di consulenza del mondo, che i nostri telespettatori conoscono e che conosce anche il presidente Borghi, che dice che in Europa il tasso di tassazione reale, per i paesi che hanno una flat tax, che sono 6, e sono l'Estonia, la Bulgaria, l'Ungheria, la Lituania, la Lettonia e la Romania, in realtà si considerano anche le tasse occulte, cioè l'IVA, le spese per la spesa sociale, che poi uno comunque si deve pagare, è superiore ai paesi che hanno una tassazione progressiva. Torneranno i conti, Borghi? Ah ma guardi che è proprio così, perché quando è stata applicata in Russia la flat tax, che è stato il primo esperimento serio di applicazione della flat tax, loro avevano un sistema d'aliquota e sono passati da un sistema flat, l'anno dopo il gettito è aumentato del 25%, perché? Perché c'è stata una molto superiore tax compliance, vale a dire la gente evadeva di meno, non è nostro interesse far aumentare il gettito, perché io non voglio prendere denaro dalle tasche dei cittadini per metterlo nello Stato, io voglio lasciare che ci sia in circolo più denaro, però fino adesso gli esperimenti di passaggio da un sistema d'aliquota e alla flat tax hanno dato per la maggior parte dei casi un aumento di gettito, perché essendo semplice diventava anche meno conveniente evadere, quindi alla fine il gettito fiscale risultava superiore. Forchielli? Abbassare le tasse è sempre meritorio se c'è spazio fiscale, le nostre condizioni sono un po' critiche, tutto lì. C'è una flat tax tarata su alcune categorie, non indiscriminatamente, i redditi contenuti, può anche andare, il problema l'ha detto anche Borghi, il budget. Con 10 miliardi ci fa niente, dice lei? No, non lo so, sento i numeri che ballano, sono molto alti, sono molto alti, per cui io sono preoccupato ragionevolmente della reazione di coloro che sottoscrive il nostro debito, no? Borghi, la fareste anche in deficit? Beh, allora, innanzitutto, ripeto, è per quello che chiedo prima di sapere qual è il budget, prima di dare i parametri, perché ovviamente il livello di deficit in questo momento è al centro di una negoziazione che tutti sappiamo all'interno dell'Europa. Dal mio punto di vista, dato che noi chiediamo di tornare momentaneamente alla regola del 3%, se fosse per me, fino a arrivare al limite del 3% di deficit, lo farei volentieri, perché secondo me è il livello adatto di deficit per un'economia tipo la nostra in questo momento. In teoria si potrebbe fare anche qualcosa di più, ma è perfettamente inutile creare tensioni sul niente. Però, ripeto, io posso dire, secondo me il livello ottimale è arrivare vicino al 3%, c'è una negoziazione in atto, se sarà di meno faremo la minestra con gli ingredienti che ci sono. Secondo la Commissione Europea, l'anno prossimo faremo il 3,5% di deficit, il governo progetta il 2%. Siamo sotto procedura di infrazione, perché non rispettiamo le regole europee fiscali della zona euro, quindi mi pare che ci sia la deliberata voglia di non rispettarle, andare allo scontro con l'Unione Europea, magari per dar proprio la colpa a Bruxelles del mancato rispetto delle regole europee da parte dell'Italia. Cercate lo scontro, Borghi? No, ma non cerchiamo lo scontro, ma ho sentito alcune cose che considero abbastanza imprecise. Per esempio, il fatto che la manovra in spesa, invece che in taglio di tasse, abbia effetti differenti, non credo ci sia scritto da nessuna parte, in nessun testo, dire la verità. C'era una vecchia passione di Alesina e Giavazzi che dicevano che se dovevi fare una manovra recessiva era meglio farla tagliando le spese piuttosto che aumentando le tasse, ma dall'altra parte non c'è scritto a nessuna parte che l'aumento della spesa è meno efficace rispetto al taglio delle tasse, C'è scritto un po' nel vostro DEF, perché quantomeno la spesa entra subito. C'è scritto un po' nel vostro DEF, nel documento ufficiale che è l'unico a disposizione. No, 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 attenzione, noi stiamo parlando in ogni caso di un rilancio dell'economia e certo che se mi prendono come esempio gli ultimi due trimestri dell'anno scorso dove la legge di bilancio non era ancora in vigore, a meno di non avere degli paradossi spazio-temporali è un po' difficile che la legge di bilancio del 2019 abbia fatto recessione nel 2018 e tenere sempre presente che occorre confrontare con l'economia degli altri paesi perché se siamo intorno in un sistema con altri paesi che rallentano economicamente è un po' impossibile pensare di fare tanto diversamente e al massimo bisogna vedere la differenza fra quello che è la nostra performance economica che è quella degli altri paesi dell'area euro. In realtà, però... Noi cresciamo quest'anno allo 0,1%, la Spagna 2,1% per dirne uno. No, beh, ma guardi, se prende la media in realtà stiamo migliorando e basta guardarlo. Sempre ultimi. Un po', certo, la responsabilità... Sì, sempre ultimi siamo, ma stiamo un po' recuperando specialmente nei confronti del nostro competitor naturale che è la Germania che sta avendo qualche piccolo problema. Dall'altra parte... Ne recuperiamo perché rallentano loro, però, eh? Eh beh, attenzione, rallentano loro, ma le nostre economie sono strettamente correlate. Non capisci, sono competitor. Come vanno a essere correlati? Dall'altra parte, attenzione, il costo che io dal mio punto di vista considero sempre la resa da parte dei cittadini di una manovra di taglio fiscale, perché dire sempre costo sembra che stiamo prendendo soldi a qualcuno. In realtà stiamo dando soldi ai cittadini se si tagliano le tasse. Beh, io vorrei ricordare che in realtà stiamo costruendo dei cuscinetti nel corso d'anno che non sono piccoli. La rottamazione delle cartelle ha portato un'adesione al momento di 17 miliardi e questi 17 miliardi potrebbero essere riaperti se si... come pare che ci sia intenzione di allungare i termini. Poi, le due grosse voci di spesa dell'anno scorso e questo sarà uno degli argomenti forti che porteremo e che cerchiamo di portare in Europa hanno avuto un'adesione molto inferiore rispetto al budget come ampiamente previsto perché se tu dai l'opzione a qualcuno di andare in pensione prima non è detto che questa opzione venga presa ma soprattutto sembra che non si capisca che a budget il risparmio è crescente con gli anni perché se il primo anno io avevo messo a budget 10 il secondo 20 e il terzo 30 e invece al primo anno abbiamo già 5 invece di 10 il primo anno è 5 il secondo sarà 10 e il terzo sarà 15 quindi in realtà man mano che si va avanti ci sono dei risparmi sempre più consistenti rispetto alle previsioni che erano state fatte e poi, non ultimo ci sono dei forti dati di gettito fiscale derivanti per esempio da una maggior compliance di IVA e da una lotta all'evasione fatta sui grandi evasori quindi sulle grandi industrie che sono veramente confortanti dal punto di vista del gettito quindi noi partiamo già con dei numeri abbastanza confortanti non abbiamo bisogno di fare chissà che le rifaccio un'obiezione non nuova dopo aver accettato la sua risposta e i risparmi dei quali parlate in realtà sono risparmi di un disavanzo e per quello che la Commissione Europea non li conta come tali Forchielli tutti gli imprenditori dicono chi se ne frega della flat tax meglio tagliare ad esempio Borghi voleva trovare risorse oggi il capo di Assolombarda Bonomi ha detto prendete 10 miliardi del bonus 80 euro e convertiteli in un taglio del cuneo fiscale a favore dei dipendenti quando si parla quando si dice come diceva Borghi fa parte delle possibili rimodulazioni delle tax expenditure l'importante è che alla fine il risultato sia superiore per i cittadini a me interessa non togliere gli soldi quindi li segate gli 80 euro? nel momento stesso in cui la combinazione di tutto porta a un risultato positivo per i cittadini si può anche pensare l'importante è che uno non venga fregato perché se io gli abbasso le tasse e gli tolgo gli 80 euro ma il risultato finale che lui paga di più poi mi insegue quindi io sinceramente vorrei evitare di essere inseguito e voglio cercare di lasciare più denaro nelle tasche dei cittadini perché lì sul salario minimo purtroppo i costi no al salario minimo è una socchezza quella lì quella lì dei 9 euro è una cazzata ma perché dobbiamo dobbiamo recuperare abbiamo un sacco di gente da recuperare che a 9 euro non riusciamo a pagarli capito? rimangano a casa esplode il nero sono fantasie da bambino quelle lì del salario minimo per carità di Dio e allora abbiamo un sacco di gente marginale che potrebbe lavorare gliela mette a 9 non si lavora più fate partire il nero e i mini bot invece lei li piglierebbe? no guardi i mini bot c'è solo un discorso importante da fare che l'onorevole Borghi l'altro giorno due giorni fa ci siamo anche scambiati un tweet dice su Repubblica i mini bot sono l'alternativa utile nel caso in cui il paese finisse sotto un attacco di tipo economico questa è la roba che mi piacerebbe approfondire questa è una roba che come imprenditore mi preoccupa ecco che paghi questa mi preoccupa se me la elabora questo è un tema fondamentale chi è che ci deve attaccare e soprattutto non svegliate il can che dorme anche voi però ma guardi io l'ho già detto in tempi non sospetti lo ripeto lo ripeto ancora ancora adesso il fatto che non abbiamo la gestione della nostra moneta comporta che la gestione della moneta ce l'ha qualcun altro io sono uno che per natura si fida di tutti per l'amor di Dio però da uomo di Stato nel momento stesso in cui la moneta è gestita da qualcun altro io preferisco avere ogni tanto il pensiero che non devo totalmente dipendere da qualcun altro perché se qualcun altro si sveglia male poi io come giustifico il fatto che non ho preparato nessun tipo di alternativa certo non sono i minibot che salvano un paese da un attacco di un qualsiasi tipo perché uno ha in mente la Grecia cos'era successo quando la BCE ha deciso con una decisione che ha molto poco a vedere con la democrazia di chiudere i rubinetti alle banche per forzare la mano al popolo greco su un referendum vi ricordate com'è andata nel momento stesso in cui il popolo ha votato però non piaceva il risultato allora hanno tenuto chiuso le banche fino a che il presidente in quel momento Tsipras non ha firmato la resa allora miracolosamente il giorno dopo le banche hanno ricominciato a funzionare vedete a me non io non voglio essere ricordato né come Tsipras né come Varoufakis preferisco avere del margine certo l'Italia non è la Grecia sì perché Varoufakis non aveva quest'opzione Varoufakis avrebbe voluto averla quest'opzione Varoufakis avrebbe voluto averla certo ma non l'aveva e poi oltretutto aveva un paese un pochettino diverso dall'Italia aveva un paese molto più marginale dal punto di vista dell'economia e in ogni caso già quello ha fatto un casino tale per cui chi l'ha combinato questo casino dovrebbe risponderne e invece sono ancora lì non ditelo troppo forte che siamo troppo grandi più importanti della Grecia per fallire che finiscono male di solito quelli che sono troppo grandi è molto semplice noi siamo noi siamo grandi noi paghiamo l'Unione Europea quindi è ovvio che la Grecia che viene pagata dall'Unione Europea può essere ricattata molto più facilmente noi che ricatto ci possono fare che non li paghiamo più e oltretutto teniamo presente che noi siamo in surplus costante da tutte le parti siamo in surplus siamo in avanzo primario siamo in surplus di bilancia commerciale quindi in teoria noi non abbiamo bisogno di nessuno quindi io sono molto tranquillo però ripeto anche in momenti di tranquillità è sempre meglio avere quindi quella roba che servono per pagare i debiti della pubblica amministrazione diciamo che è una roba un po' così Borghi non è che pensate di magari pagare le tredicesime con i mini bot se butta male ma assolutamente no anzi una delle cose stupide che ho sempre letto in questi giorni è che il mini bot è obbligatorio il mini bot lo prende chi vuole se uno vuole avere subito il pagamento invece che con i tempi soliti lo prende altrimenti aspetta i soldini come prima Borghi prenda intanto quelli del foglio di oggi Luciano ce li hai? ecco li ecco li è uscito il foglio mini bot bellissimi si porta sempre Borghi abbiamo quelli del foglio sono Borghi e Bagnai quanto vale? c'è Vanna Marchi Luciano Moggi e Schettino sono diciamo quelli scelti dal foglio per indicare quanto questa idea sia folle ed è evidente che la scelta dei mini bot è la volontà deliberata di uscire dall'euro da parte di Borghi che non hanno fatto mai mistero e da parte della Lega ed è quello che tutte le istituzioni e i mercati hanno considerato quando hanno appreso la notizia si è visto infatti lo spread siamo sui minimi degli ultimi mesi ma approvateli non è che sia una gran compagnia quella con cui mi hanno messo lo considero come satira però teniamo presente una cosa che il fatto di avere evidenziare delle criticità è fondamentale indipendentemente da dove si vuole arrivare cioè se io dico che la macchina non funziona e che va riparato lo spinterogeno che va riparato il motore o la gomma significa che quello va fatto in ogni caso poi che poi uno mi dica che voglio riparare la macchina per andare a Torino piuttosto che a Venezia quello lo lascio alla fantasia di ciascuno io dico che in ogni caso la macchina va riparata e quindi le cose che evidenzio io sono cose importanti se le accetta ecco se le accetta hanno capacità di spesa quantomeno il primo quelli di Vanna Marchi e gli altri servono per avere uno sconto il mio lo tengo basta che le accetti lo Stato e qualsiasi cosa diventa di valore lo Stato perché scusate le banconotte con cui si paga attualmente valgono qualcosa no valgono qualcosa perché le accetta lo Stato per il pagamento è stato un po' Grazie a tutti.